Oh, non si vede niente a queste cazzo di onde. Unse, unse vede. Se vede. Eccola la bandierina. Sulla sinistra. Oh, guarda queste cazzo di onde. Sono io che sto perdendo pacchetti che ti sento... Sto perdendo un sacco di pacchetti, non so perché. Sono un perditore di pacchetti. I miei pacchetti sono contenti. No. No, qualcosa ha deciso... Qualcosa ha deciso che mi sta robando banda. Ok, ho un colpo di cecchino in meno. Non poca, porca misera. Ma cos'è che sta robando banda così? Ok, quella è la torretta predestinata. Con anche salita delle scalette alle spalle della nave. Molto bene. Eh. Per di poter vedere in tempo la questione perché voglio andare a vedere cosa sta rubando tutto che vedo all'allentatore il tuo stream. Aspetta. Ce la farò a non essere sgamato? Qua è un momento cruciale. Cazzo, è proprio attaccata. Se non mi faccio sgamare da qua... È fatta. Oh merda, mi sono attaccato al culo. Mi sono attaccato al culo. E c'è un barile! Mi sono attaccato al culo con un barile! No, cioè, posizione migliore di questa non si può avere. In the world, proprio. Cioè, praticamente, per farli secchi gli accendo il barile e lo mollo giù quando stanno salendo col mega keg. È ciaone, proprio. Attaccato al culo! Attaccato al culo! Mi sono attaccato al culo! Con un barile piazzato lì! Adesso, basta che uno di loro non abbia voglia di venire a prendere il barile e rovinarmi tutto. Però, sai che per risolvere questo problema potrei... Mettermi così. No, mi sono fatto sgamare. Dimmi che non mi sono fatto sgamare alzandomi. Non mi pare. Ok. Adesso, in teoria, se sale... Dovrei essere... Se sale per prendere il barile... Sono abbastanza nascosto. Dovrei mettermi anche un po' meglio di così, ma... Cristo! Se magari non mi faccio sgamare... Eh? No, mi sono messo dal lato sbagliato? Sì. Mi sono messo dal lato sbagliato. Mi sono leso. Ok. Buono. Buono. Guarda, cioè, guarda, sembra fatto apposta. Proprio da qua, non devo neanche scendere. Glielo mollo giù. Pluf! E poi mi devo... Oh! Subito! Final boss. Final boss. Mi hanno voluto fottere la nave. Beh, hanno voluto fare gli stronzi. Adesso avranno... Se diranno la mia vendetta! Oh, in tutto questo la sirena? Non... Chissà dov'è. Eccolo! Eccolo! Apri, apri! Ok. Ok. Grazie a tutti. And it goes, boom, 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 got a boom, boom. Oh, che bello, su Giacomo. Dai, dammi la sirena, su. Dai che devo andare a prendere la nave. Sirena. Dai, prendo la vostra. Dai! Dammi la sirena! Oh, anche la cassa di polvere qua è già spawn... L'avevano già tirata su. Let's go, boys. Let's go! GG, bombers! Adesso bisogna muoversi perché purtroppo non avevano caricato tutto. Quindi ho da caricare tutto dal forte. Però c'è la scialuppina, loro. Che è buono. Veloci, veloci, veloci! Presto che tornano, presto che tornano! Che sono incarogniti! Presto che sono incarogniti! Presto che sono incarogniti! Presto, 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 presto che tardi, presto che tardi! Corri, 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 presto che tardi presto che tardi voglio le robe di valore no tu ho sentito un rumore corri 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 non c'è molto altro monnezza 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 barili esplosivi un paio un paio di barili andiamo basta uno andale andale è tutto tranquillo ma tanto non è che quella roba fosse di così gran valore quindi possiamo andare a galneos grave a consegnare la rapina è riuscito a scippare roba bomber li ho fatti saltare affondati e ho preso il loot bella daniel te la sei beccata ma cavolo non ho neanche messo il link su twitch su discord come al solito porco cane mi dimentico sempre bravo bravo però non ho scoperto la causa dei miei lag spank sarà il mio provider che mi deve rompere i coglioni user joined your channel il kirchio kofu ma lalala e daniela per l'ennesima volta ho fottuto il loot al forte in questo caso una slup ho fatto saltare il megakeg e quando hanno finito il forte ho preso tutto il loot adesso a consegnare ieri l'ho fatto a un galeone tra le bestime dei chizi e l'altro ieri ho un altro galeone ogni giorno bisogna farlo adesso è la new technique mega barrel però mega disaster ma sto giro era epica perché proprio la torretta era di fianco alla sloop e c'era sopra la torretta c'era un keg praticamente quando sono arrivati a bordo io ho raccolto il keg gliel'ho mallato sulla sloop sono saltati in area keg, mega keg e loro due insieme quando hai mai sentito qualcuno così casato pensavo per questo gioco perché è come il bambino natale non ce lo faccio è la felicità fatta persona come dice queste cose ma perché è il top è il gioco più bello mai fatto nella storia dei videogame allora potrei permettermi di sentire però sì ho capito cosa ho capito la tua sensation poi ti ricordo che siamo in presenza del grande circio ossia il basciatore professionista quindi che vuole e ti butta via subito ma comunque il circio esatto basta guardare la basta nominare halo ed è come un calmante tutto torna tranquillo e no come dici ah lo è realistico i personaggi saltano troppo no vabbè non devi dire così allora triggeri perché io ti ricordo che dalla lista dalla lista amici delle xbox sono partiti 5 persone di cui istantaneamente appena ho sentito questa cosa qua non sai cosa platinare alla play? io ti consiglio di comprare seekiro prima che ci mettere un easy mod si infatti vai di seekiro hai voglia a bestemmiare vai tranquillo ne hai da giocare anche perché il platinarlo non è difficile nel senso è difficile comunque richiede della skill ed è la prima volta che vedo la barca regni ed è una figata pazzesca non avevi ancora visto la scialupina? nooo no la scialupina no è il top è un'aggiunta fondamentale al gameplay in questo gioco vuoi fare degli assalti se ne sta andando da sola assalti sneaky sneaky puoi fare il meme dei marins che avvicano nel fiume in stealth che stanno per assaltare un villaggetto vietnamita hai otto giochi nuovi che devi ancora iniziare minchia vai elenca e noi decideremo per te esatto fai l'elenco degli otto giochi e ti diciamo quale gioco dovrai iniziare chiaramente sarà quello dove penerai di più è quello con le maggiori bestemmia sicuramente sappilo però avere una backlist di otto giochi e non sapere cosa iniziare è goduria ragazzi non mi sono mai trovato in questa situazione mission accomplished anche oggi perché sono pochi mission accomplished non si dice così? si no nel backlog chiaramente sono pochi no accomplished è quello che mi ha fatto un po' mi ha messo un po' ansia no no non andare in ansia vabbè io ho più o meno 400 giochi nel backlog eh si penso anche sì vabbè più o meno 400 nuova perché tu sei l'ammiratore quello che ammira la lista la lista giochi e dici ah io possego tutto questo il gioco è comprare i giochi esatto è il metagame è la vera sfida perché tu come completismo intendi avere l'intero catalogo Steam avere i giochi esatto voglio tutta la merda che c'è su Steam no sarebbe sarebbe impensabile sarebbe impensabile buttare i soldi a questo punto di brucio per scaldarmi nell'inverno no ma cosa sono digitali che cazzo bruci no dico i soldi ah però stare male anche bruciare pochi digitali per scaldarsi iniziamo cosa sta succedendo in questa sequenza entusiasmante eh no non è entusiasmante perché ha appena finito un super assalto dove ha rubato della roba dei tizi ho appena sempre quando non succede niente ho appena avuto il picco di tensione massima ma anche se frega tu devi guardare il mare questo è vero però poi ho l'impressione che il gioco sia soltanto lui che vaga sulla nave mentre gira nel muro beh poi l'ottanta l'ottanta-novanta per cento è questo è appunto per dire l'ottanta-novanta l'ottanta-novanta